6.000 atleti di cui molti stranieri provenienti principalmente da Austria, Francia, Ungheria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Slovacchia, Spagna e Polonia saranno i grandi protagonisti questa sera agli esero della tredicesima edizione della Moonlight Half Marathon, ovvero la mezza maratona al chiaro di luna, che animerà la serata tra sport, turismo e grandi eventi. Dal Kenya al Burundi sono i grandi favoriti della gara organizzata da Venice Marathon, il presidente Piero Rosasarva ringrazia tutti i partecipanti che anche quest'anno hanno fatto registrare un sold out. Abbiamo raggiunto quest'anno numeri importanti, anzi abbiamo superato i numeri dell'anno scorso, siamo in sold out con i 6.000 partecipanti suddivisi tra la 10 km e la mezza maratona. Poi devo dire che abbiamo avuto anche un rafforzamento dell'attività promozionale della Family Run, che per noi è molto significativa perché colvolgiamo della scuola e ha anche delle finalità solidali e benefiche. A precedere la mezza maratona sarà la partenza tra 10 km, Piazza Milano accoglierà e applaudirà i partecipanti all'arrivo tra duari di fogo con migliaia di persone lungo il percorso. In mattinata è stato inaugurato anche il villaggio dello sport. È un evento compiuto che è molto gradito e accolto con grande favore anche dal territorio ed è anche molto atteso dai nostri runner di tutti i tipi. Abbiamo molti stranieri, abbiamo una bellissima alta percentuale di donne, insomma incrociando le dita è un evento che promette di essere un grande successo.